Ciao a tutti carissimi amici smart e ben ritrovati naturalmente sul mio canale, io sono come sempre Simone e oggi vi voglio presentare un'app alternativa alla Mi Fit di Amazfit per vedere tanti dati interessanti sul Bip, sul Pace e credo anche sulla nuova band ma non sono sicuro perché ancora non l'ho provato. Questa app si chiama, come vedete qui, si trova gratuitamente ma c'è anche una versione Pro, comunque la versione gratuita già serve abbastanza e si chiama Notify & Fitness for Amazfit. Ok, andate qui sullo store, lo scaricate, io già l'ho scaricato e l'apriamo. Ok, qui ci fa inserire tutti i dati, dobbiamo inserire naturalmente tutti i dati personali. Ok, una volta aperto per la prima volta ci fa inserire tutti i dati personali che poi li andremo a trovare qui nel profilo. Ok, vedete qui. La cosa importante è che questa app dialoga, collabora con la Mi Fit di Amazfit quindi dobbiamo tenere tutte e due installate al telefono ma non c'è nessun problema perché sono compatibili al 100%. Come vedete la grafica è molto pulita, semplice e ci sono tante informazioni già nella home quindi magari già questa schermata ci dice tutto quello che ci interessa. Vedete i passi, la percentuale di passi che abbiamo effettuato in base a quello che noi impostiamo come traguardo, poi sono le calorie consumate, il sonno che abbiamo realizzato e questa del sonno, c'è una bella parentesi che vi spiegherò dopo, i battiti cardiaci che come vedete, come vedremo in seguito possiamo regolarli, nel senso possiamo farli registrare ogni tot di tempo. Il nostro storico del peso ok, qui possiamo avviare le sessioni, aiuto, preferenze e così via. Ma andiamo più approfonditamente su cosa ci offre questa applicazione. C'è una piccola novità che a giorni mi è arrivata, mi sono accorto che dopo un aggiornamento è apparso questa barra qui che dice Notifici Your Friends. Sono andato a provare nel senso che se voi avete degli amici che utilizzano questa app, basta condividerla, vedete? Notifica agli amici e comunque anche loro possono scaricare, potete fare delle gare e così via. proprio come la Mi Fit, se utilizzate la Mi Fit, avete sicuramente visto che potete aggiungere amici o familiari al nostro account per controllare il loro movimento, magari fare anche delle competenze e così via. Qui in alto troviamo dove possiamo andare a vedere direttamente le cose che ci interessano, quindi se vogliamo entrare per vedere i passi, ecco vedete? Ci dà lo storico da quando noi lo stiamo utilizzando e possiamo andare a cliccare il giorno che ci interessa, così vedete? Io ho cliccato il sabato 9 dicembre e ci dà tutte le ore, i passi che abbiamo fatto con le ore, vedete? Questi sono i passi che abbiamo effettuato quel giorno a fila 23.59, quanta strada abbiamo fatto, quante calorie abbiamo consumato, naturalmente qui ci sono anche altre opzioni che possiamo andare a calcolare, vedete? Tutto quello che volete. Così, va bene, e scorrendo, scorrendo in basso ci sono altre funzioni, nel senso che noi possiamo sincronizzare tutti i dati con il Google Fit, vedete? L'obiettivo passo, il mio obiettivo, scusate, il mio obiettivo passo è, ho impostato 11.000, l'ho sbagliato perché sulla band c'ho 12.000, comunque andrò a correggere, qui si possono esportare i dati, naturalmente inserire la lunghezza del passo, io già l'ho inserito, poi c'è, vedete, nella versione Pro si possono fare anche cose, cose più approfondite, vedete in questo caso sincronizzare con il Google Fit, per esempio, vedete, se noi vogliamo un'ora, se noi proviamo su un'ora particolare, ci dice che dalle 4.29, le 4, scomparsi in basso, dalle 5.39, alle 5.19 abbiamo effettuato 308 passi, molto interessante, possiamo anche condividerlo, condivido con tutte le app che noi vogliamo condividere, ok, continuiamo, adesso passiamo al sonno, questo è una parentesi positiva, nel senso che, come sapete, io faccio lavoro a turni, quindi ho difficoltà a registrare le mie fasi di sonno di giorno, questa app per adesso è l'unica che me la registra, quindi non è un problema della band o dello smartwatch, ma è della app, perché mi Fit non registra le fasi di riposo di giorno, quindi per i turnisti è un piccolo problema, invece questo registra completamente tutto, vedete, io dormo, qui ho dormito, per esempio, vedete, dalla mattina, registra dalle 11, pomeriggio, fino alle 17.03, registrato tutto, vedete, tutto, 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 anche pomeriggio, naturalmente quando dormo di notte, come oggi, registra anche la fase notturna, e così via, possiamo vederlo, possiamo vedere la visualizzazione una settimana, due settimane, un mese, vedete, questo di un mese è molto interessante, due mesi, chiaro che in più tempo lo utilizzate, più dati avete da controllare, qui naturalmente ci sono anche altre funzioni, come vedete, ci sono quelle gratuite, c'è anche qualcosa, si può inserire anche pro, adesso qui non sto a spiegarlo tutto, ma comunque potete andarla a vedere, che è veramente molto interessante, ok? Poi, il battito cardiaco, noi qui possiamo, a parte la visualizzazione, vedete, un'ora, 24 ore, una settimana, un mese, a me va bene per 24 ore, quindi la cosa qui interessante, anche se ci appaiono delle pubblicità, ma è totalmente gratuito, possiamo regolare quanto ogni tempo ci deve misurare il battito cardiaco. Io ho posizionato due minuti, ma potete scegliere da un minuto fino a sei ore, e naturalmente questo, più il tempo è breve, e più la batteria del nostro bip, in questo caso, dura di meno, ma io così arrivo veramente a fare 30 giorni senza nessun problema. E naturalmente anche qui ci sono delle opzioni pro, che noi possiamo andarle a scaricare, vedete, le modifiche a prima visualizzazione, tante cose che poi veramente possiamo andarle a scaricare senza problemi, vedete, ok, e qui in basso, adesso chiudo questa finestrella così è più precisa, allora qui in basso, vedete, ogni due minuti che ci, che ci verifica, che ci, diciamo, che ci controlla il battito, vedete, per esempio, alle 11.46, io ho avuto 82, 82, 82, dopo stazione 82, e possiamo vedere tante altre opzioni che possiamo scegliere, e naturalmente perché sto parlando, vedete, ci dà tutto lo storico, e quindi, vedete, qui ci fa vedere tutta l'intensità che noi proponiamo, vedete, l'intensità, questa comunque è bassa perché mi sono svegliato da poco, e ci fa vedere il 5% della moderatamente intenso, leggermente intenso, vedete, ci spiega tutto quello che ci interessa. Molto, molto interessante. Torniamo in alto, qui ci sono le sessioni sportive, ok, che noi, vediamo, ce lo dice qui, sincronizza con il BIP, vedete, possiamo, scusate, l'app è sincronizzabile anche con Strapia, come potete notare, ok, la, possiamo, adesso, vedete, scusate, una volta sincronizzati i dati col BIP, ci fa vedere l'ultima sessione che abbiamo fatto, per esempio, vedete, il 2 novembre, questa è la sessione che io, diciamo, la sessione che io ho fatto, passi, distanza, velocità, tutto quello che ci interessa, la media, calorie consumate, il battito massimo, qui è l'altitudine, il livello di altitudine, i battiti cardiaci, qui la media passo, tutto quello che veramente ci interessa, è un'app veramente molto, molto, molto accurata. Se vogliamo andare a vedere, possiamo, scusate, attivare o disattivare quello che ci interessa, e qui ci fa vedere solo il cuore, per esempio, se ci interessa la distanza o l'altitudine, vedete, ci fa vedere tutto quello che noi vogliamo, l'apriamo tutti, perché è sempre molto interessante, ok, sommario, oppure vogliamo andare da qui, passi, si registra tutti i passi, nell'orario di passi, il cuore, tutti i battiti che abbiamo registrato in quel momento, il GPS, quindi ci registra anche la strada che abbiamo effettuato. Questo piccolo play che vediamo qui in basso, serve per avviare un'attività direttamente dallo smartphone, vedete, possiamo scegliere l'allenamento che vogliamo fare, corsa, passo veloce, qui dovrebbe essere di step, comunque passo veloce, comunque la traduzione non è fatta male, abbastanza buona, aerobica, allenamento, tantissimi sport, wow, veramente tanti che magari non sapevano neanche l'esistenza, qui c'è anche working per lavorare, questa veramente è buona, io l'ho provata una volta, poi purtroppo non ho fatto salvare i dati, ho sbagliato, ma va bene, comunque c'è la possibilità di registrare anche il vostro lavoro, tante, tante, tante belle opzioni. Ok, naturalmente qui ogni tanto escono delle novità, qui l'azione pulsante, io non ho attivato, c'è la distanza, vedete, tra il GPS, tutto quello che noi vogliamo, vedete, il cuore, le opzioni che potete visualizzare senza problemi, andate magari a controllare quello che mi interessa, attivate e disattivate senza problemi, così vi potete divertire e avere tutto sotto controllo. Calorie consumate, naturalmente in base al nostro movimento, alla nostra attività fisica, anche qui ci sono altre funzioni, esporta dati e così via. Il peso, si può controllare il peso, qui sarebbe veramente interessante avere una bilancia, vedi, connettersi col Miscale, una bilancia Bluetooth intelligente, che per adesso purtroppo non ho, comunque si possono inserire i dati manualmente, altre funzioni come sempre, funzioni pro, funzioni gratuite, ci dice che io per esempio sono obeso e così via. Queste sono le app da cui ci arrivano le notifiche, che sono veramente notifiche fatte, veramente fatte bene. Qui un attimo l'ho bloccato perché altrimenti non riuscivo a fare la recensione, perché continuavano ad arrivare notifiche su notifiche, adesso proviamo a riattivarlo. Ok, vedi, è scomparsa quella icona di attenzione. La cosa molto interessante qui è che possiamo dare, possiamo aggiungere qualsiasi app, scusate, possiamo aggiungere qualsiasi app o cancellare direttamente da questo più qui. Ok, se noi apriamo una, una qualsiasi, scusate, una qualsiasi app che noi vogliamo essere notificate, vedete, ci dà anche l'opzione, questo è molto interessante, dell'icona che noi vogliamo che ci arrivi. Vedete? Naturalmente questo è Whatsapp, me la sono perso. Un attimo che lo ritrovo, ce ne sono veramente a decine, questo è Whatsapp, vedete? Quindi una volta che io ho inserito l'icona che mi piace, posso andare a fare la prova, con questo segno del Play, sul mio smartwatch. Una volta premio, vedete? Purtroppo non riesce a mettere a fuoco, comunque ci notifica, allora, ci notifica l'avvenuta, vedete l'icona? Vedete? In questo momento è arrivato in inglese, il messaggio, perché il bip è in inglese, comunque quando ci arriva il messaggio, naturalmente ci scrive il messaggio, secondo la lingua a cui ci è stato inviato. Vedete? Qualsiasi, anche questo di Facebook, vedete? Ci arriva la F di Facebook. Giustamente si può anche attivare e disattivare la chiamata d'arrivo, la memoria, il promemoria, ok, possiamo impostare le promemoria, le sveglie, naturalmente, le sveglie, cosa può fare l'azione pulsante, che io non ho trovato la necessità di attivarlo mai, quindi non l'ho attivato, comunque ci sono tante cose che poi volete andare a vedere senza problemi. Vedete? Altre cose, utilità, il tempo, vedete? Il tempo, naturalmente, è basato sempre al GPS, ci dà anche il tempo sul bip, come potete vedere, ha visto se è d'arietà, io ce l'ho attivata in 60 minuti. Lo voglio far vedere, per sbloccare la versione Pro, basta premere l'icona qui sotto, e vedete che, veramente, vale la pena, perché costa soltanto 2,99€, quindi, io vi consiglio, se siete interessati, di acquistarlo, perché è veramente, veramente molto, molto buona come app. E qui, naturalmente, per, diciamo, questo per aggiornare, se per aggiornare l'app, anche comunque, si aggiorna automaticamente, vedete? Torniamo indietro, nella sezione, nella, principale, vedete? Qui vogliamo, apriamo queste tre, le classiche tre virgolette, da qui possiamo entrare, anche a tante altre cose, vedete? Qui dice che la versione, che abbiamo installato il Mi Fit, ok? Le impostazioni, vedete? Impostazioni principali, dove possiamo, dove ci dicono, tante altre cose, posizione Amazfit, modalità notte, io ce l'ho disattivata, che comunque me lo registra, senza problemi, tante cose, e così via. Qui c'è anche la versione, scusate, ci dice la versione, dell'Amazfit, come potete vedere, ok? Benissimo, funzione di utilità, coloro e sfondo di widget, chiaro, modalità, tantissime cose, possiamo andare a vedere, la notifica, io ce l'ho attivata la notifica, la barra di notifica, che come potete vedere, qui è molto interessante, perché ci dice che, diciamo, i passi che abbiamo fatto, i colori forse non sono tanto, tanto colibrati, ma questo dipende dal, dal tema che io ho scaricato adesso, qui possiamo attivare, disattivare l'impattito cardiaco, le notifiche, avanzate, trascrivi carattere, la grandezza del testo, ok? E veramente, ci sono tante, tante cose, che vi consiglio di andarle a scoprire, perché sono veramente, molto interessanti, c'è anche la community, si può, vedete, ci sono delle news, delle facche, che noi possiamo andare a leggere, la maggior parte sono in inglese, ma in spagnolo, comunque, sarebbe ora che impariamo un po' di inglese, benissimo, e il negozio, nel senso che qui, possiamo andare, vedete, ci dà le link, dove possiamo comprare, diciamo, tutto ciò che ha Masfit o Xiaomi, che comunque è compatibile con, con questa app, vedete, torniamo indietro, modalità semplice, non vi sto a fare perché, veramente troppo semplice, impostazione, ok, esplora, esporta e importa i file, le statistiche, vedete, questa è molto, molto interessante, tutte le statistiche, le notifiche che ci arrivano, vedete, delle statistiche, ultima ricarica, vedete, corrente, cioè in questo momento, va bene, comunque, molto interessante, il test schermo, come abbiamo, abbiamo già visto, comunque ci arriva un messaggio, test vibrazione, vibra, giustamente vibrazione, test di frequenza cardiaca, scusate, test di frequenza cardiaca, vedete, appare qui sotto, in basso, battito misurato 90, benissimo, visualizza testo di prova, vedete, questa è una chiamata, adesso lo rifacciamo, così, vedete, quando comunque ci arriva una chiamata, da una persona, che abbiamo salvato, abbiamo, abbiamo salvato, nella memoria, del telefono, ci appare anche il nome, naturalmente, qui c'è tutte le funzioni, nel link rapido, per tutte le, per arrivare, in tutte le funzioni, c'è tante, tante cose ancora, fai una donazione, chiedi aiuto, versioni precedente, aiuto a tradurre, mi piace questa app, controllo la licenza pro, sblocco, tanto il profilo, qui per controllare il profilo, ci piace questa app, naturalmente valutatela, perché io, ho dato 5 stelle, non è perfetta, chiaro che qualche volta, ha dei bug, notifiche qualche volta, arrivano in inglese, è vero, però la maggior parte di volte, 9 su 10 sono perfette, sono ok, sono precise, al minimo secondo, arrivano senza problemi, e cosa dirvi che, che se la, provatela, scaricatela, perché è gratuita, e quindi, non vi costa niente provarla, è un po' complessa, nel senso, ha tante opzioni, che voi potete, scoprirle piano piano, non c'è bisogno, di impararle tutte subito, però, credetemi, che una volta, che avete questa app, non tornerete più, su Mi Fit, comunque, si, dovete sempre, tenere installato, ma controllate, i vostri, tutti i vostri dati, su questa, perché è molto più, quindi, ve lo consiglio, gli sviluppatori, hanno fatto, un ottimo lavoro, se non mi sbaglio, questa, è un'app, sviluppata, da italiani, e anche da italiani, scaricate, dammi supporto, magari facciamo, una piccola donazione, non vi sto a dire, io l'ho fatto, però, perché, veramente, se lo meritano, anche di qualche centesimo, di euro, ma, lo meritano, al 100%, o magari, scaricate la versione pro, così, non vi appaiono, più le pubblicità, e avete tante, tante altre opzioni, al momento, io vi saluto, un saluto smart a tutti, ciao, alla prossima, ciao ciao.